Nel primo weekend di marzo, quando tutto lasciava pensare all'avvicinarsi della primavera, la neve è tornata a scendere copiosa. L'altopiano calabrese innevato regala splendidi scenari e tanto divertimento. Lo scenario è fantastico, non sembra neanche marzo, sembra quasi la nevicata di gennaio. Nella rinomata località sciistica di Camigliatello, i maestri di sci, nel fine settimana appena trascorso, hanno accolto le famiglie, arrivate numerose con i loro bambini, da tutto il sud Italia. Dalla Campania alla Puglia, alla Basilicata alla Sicilia, ancora una volta per molti la scelta è stata Camigliatello Silano. Ciao a tutti, benvenuti a Camigliatello. Ciao, un saluto da Acqua Formosa, Camigliatello number one. Noi ci siamo, con le lezioni siamo veramente al completo, continuiamo a dare, a impartire lezioni, ma soprattutto a distribuire, come dico spesso, sorrisi e buon umore. L'accoglienza è al top. Ricettività al completo per una stagione da incorniciare, soprattutto per la scuola di sci Camigliatello. Punto di riferimento per chi sceglie di avvicinarsi a questo sport. Siamo Antonio e Stefano, veniamo alla Crotone, oggi pista bellissima, Camigliatello top. Oggi bella giornata di neve, con il sole, la pista spettacolare. Siamo a Camigliatello, quelle sono le piste alle mie spalle, innevatissime, ben curate, quindi ci sono tutti i componenti per veramente completare una stagione veramente eccezionale. È inutile sintetizzare sulle immagini che stiamo vedendo, non ci bastava quel pizzico di virus che ci ha reso la vita impossibile per tre anni. Noi siamo ancora in piena stagione, con una neve a dir poco per chi vuole sciare, veloce, piacevole, dove neanche sulle dormite è facile di scontrare. Con lo snow abbiamo i nostri boschi che ci aspettano lì in fuori pista tra una salsiccia, un bicchier di vino, una sopprestata con l'amicizia di persone care, tra Catanzaro, Cosenza, Ciorotone e la Sila. Cos'altro dire? Non c'è che respirare, star bene, perché penso che per noi del Sud sia un lusso e per noi italiani essere in pace e poter vivere scambi importanti tra persone care in un momento così delicato. Viva la natura, viva la Sila e venite a fare snowboard ragazzi. Una neve splendida e maestri di sci veri protagonisti dell'accoglienza e dell'intrattenimento che trasmettono la passione per lo sci, rendendola un'esperienza meravigliosa, formativa e sicura, anche per i più piccoli.